Non riesci a rispettare i limiti di velocità? Sfrecci a 100 km orari dove al massimo potresti andare a 50? Ford ha pensato alla soluzione ideale per te. La casa automobilistica americana doterà il suo crossover S-Max di uno speciale sensore che farà rallentare l'auto quando tu esageri col gas. Tutto questo sarà possibile grazie ad una tecnologia in grado di scansionare la segnaletica verticale. Il ruolo chiave l'avrà la centralina che limiterà la quantità di carburante erogato al motore facendo perdere velocità al mezzo. La funzione, utile soprattutto per le persone distratte, potrà comunque essere disabilitata in qualsiasi momento.